Giovedì 25 aprile, il nostro classico speciale dei campi del circolo tennis Francavilla con Stefano Travaglia. Ciao Stefano, ben rivisto. Ciao, domani giocherai i quarti di finale. Oggi piuttosto facile la giornata per te contro Zeppieri che ha avuto un problema, però stiamo rivedendo il miglior Travaglia? Sì, diciamo che da ieri ho giocato il primo turno, un primo turno difficile contro Andrea Pellegrino. Ci conosciamo bene, quindi non è mai semplice giocare. Ho giocato un buon tennis, non il mio miglior tennis, però ho acquistato fiducia. Oggi sono entrato in campo ed ero molto più solido, al di là che il mio avversario si è ritirato e gli auguro una pronta guarigione. Ho fatto degli ottimi game, sia in servizio che in risposta. Sicuramente sono stato molto più solido di ieri. E ho acquistato fiducia per il prossimo turno che affronterò domani. Domani quarti contro le vincente tra Gaio e il suo avversario che stanno giocando, quindi è il momento in cui noi registriamo questo speciale. Non sappiamo dire, Gaio contro? Hernandez, Fernandez. Ti preferisci? Li conosco tutti, quindi non lo so. Con Gaio ci ho giocato già due settimane fa. Sono due giocatori tosti, come ovviamente tutti coloro che giocano il torneo. Non ti saprei dire, vedremo dai chi vince. Travaglia possiamo dire che è uno a questo punto dei grandi favoriti di questo torneo? Non me lo posso dire da solo, però dai speriamo. Sicuramente sto cercando di ritrovare il mio miglior tennis, che ho espresso a fine dell'anno scorso a US Open e a inizio di quest'anno in Australia. Non è mai semplice avere una continuità in questo sport, anche perché ogni settimana c'è una rivincita, quindi tutti i giocatori sono agguerriti. Cerco ogni giorno di dare il massimo e ritrovare il mio tennis per vincere questo torneo, i tornei a venire per scalare la classifica. Un'ultima cosa ti chiedo Stefano. Due anni fa, la prima edizione qui del torneo a Francavilla, tra i favoriti c'eravate tu e c'era Cecchinato. Ve la siete vista a pari in semifinale. Poi Cecchinato ha fatto quello che ha fatto. Travaglia è pronto a fare questo salto? Si sente pronto? Penso che dietro il salto che ha fatto Marco, anche compagno allenamenti, dato che ce l'abbiamo con lo stesso team, c'è un grande lavoro dietro. Quindi sicuramente mi sento pronto. Come ho detto prima, devo ritrovare il mio miglior tennis, ma non è tanto quello, ma è la continuità. In questo sport devi avere molta continuità che ti permette di prendere fiducia e di avere risultati continui per almeno 3-4 mesi. Il resto poi si decide in campo.